Farlo come lo intendiamo io e Paola vuol dire tornare indietro di tantissimi anni e riprendere a lavorare in libreria insieme ai clienti, cioè stabilire un contatto, una relazione con i nostri clienti che poi diventano amici, che poi diventano collaboratori e lavorare insieme a loro, cioè passare del tempo, chiacchierare, così come avevamo fatto con Simone Murru molti anni fa, una operazione che si chiamava Istigazione alla lettura, il mestiere di libraio come lo intendo io ora è proprio quello di istigazione alla lettura, cioè fingere le persone alla lettura.